L'amministrazione comunale di Pordenone ha presentato nella Sala Rossa il nuovo servizio online dedicato alle pratiche edilizie. Si tratta di una nuova piattaforma, accessibile attraverso il sito del Comune, tramite cui chiunque potrà consultare l'archivio delle pratiche edilizie, disponibile dall'anno 2004, ma soprattutto è un rinnovato strumento di lavoro a disposizione dei professionisti, che potranno, tramite registrazione ed una username e password, presentare e consultare le proprie pratiche, verificandone in qualunque momento lo stato di avanzamento. L'assessore comunale Martina Toffolo. Oggi presentiamo ai cittadini e ai tecnici il nuovo portale per il preinoltro delle pratiche edilizie. È un passo importante che ha visto per mesi impegnati i settori delle edilizie private e del SIT, che hanno lavorato sia a semplificare e a correggere tutte le banche dati che avevamo, sia a testare un sistema che risulti palese e chiaro per i professionisti e per il cittadino, che potranno quindi, grazie a questa modalità, controllare l'iter mano a mano del rilascio dei permessi di costruire e delle pratiche edilizie. Speriamo che questo ci aiuti ad arrivare in tempi rapidi alla smaterializzazione delle pratiche edilizie, a far sì quindi che tutto possa passare tramite via telematica e quindi ci sia un risparmio di risorse e di tempi per i tecnici e per i cittadini che vedranno tempi certi nel rilascio dei permessi di costruire. Grazie 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 Grazie